Anticipazioni dei Dreamer Venerdì 4 settembre 2020 Sanem parla con Jean dei sospetti che ha su Emre, ma lui non è affatto sorpreso da ciò che lei gli racconta perché ha già saputo tutto attraverso il fratello. Ormai il fotografo ha deciso di dargli una seconda opportunità e non si lascia scalfire dai sospetti della ragazza. Macbeth vuole trovare dei libri per riempire la libreria del quartiere, ma è ancora una volta Jean a intervenire e a commuovere Sanem per il suo comportamento. Infatti fa ricapitare alla madre pacchi interi di libri e tutta la famiglia è felicissima. Intanto arrivano i modelli per la campagna Compasport e tra questi c'è anche Sinan, un vecchio amico delle elementari di Sanem. Stavolta è quest'ultima a fare ingelosire Jean perché ha subito una grande sintonia con il ragazzo. Il fotografo prova ad allontanarla da lui dicendole che è già tardi per le lezioni di motorino. Tra Emre e Leila le cose vanno sempre meglio così Jean va a parlare con il fratello per dirgli che sicuramente quella è la donna giusta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.